Stamattina mi ha chiamato il mio dietologo. Guido, ti devo fare i complimenti. Ho visto che hai pubblicato quei video dove ti mangi un panettone intero, dove ti mangi una sezione di battipaglia da un chilo. Ti devo dire una cosa qui, sotterrati. Sotterrati? Dove vado a sotterrare? Dopo pensa, pensa, cerca, cerca. Ho trovato un ristorante a Canzano, si chiama La Tacchinella, e è un'antica neviera, pensate, del 1100. Ed è tutta sottoterra. Ci vuoi medici bravi? Il mio è una cosa, è una cosa grossa. Andiamo a vedere. Questa è la porta d'ingresso. Questa è la cantina. E qui sotto c'è la neviera. Guardate che bella. Eccola qui. Tra poco io farò cena qui. Molto suggestivo, bellissimo. Tagliatelline tricolore con funghi e tartufi. Assaggiamo. Ragazzi, la tagliatella fa matti. Ma è tutta l'atmosfera che si respira in questo posto, che è incredibile. Sono emozionato. Bellissimo.